Bella ragazze ragazze, se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente, basterà andare su Item Shop, Supporto un creatore e scrivere il nome di Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi. Buona visione! Mi stanno sparando, non c'è c'è la gente. Sì, a Gerusalemma. E' stato tirato con il cindone. Hai arrestato tu? No. Hai arrestato. No, non c'è una guida. C'è una guida. Sì, dove la farei figo con me? No skin. Ho trovato Ari. Oh, e te? Ma dove cazzo spunti? Chi ce l'hai? Oh no. Ma sono in due. Eh, pompa nuovo. Che finisce anche. Gli ho fatto 110. Che hai fatto scusa? Non ho capito. 110. orasci... B 1 è Non è timing per me Dove l'hanno abbandonato? E' vero che non si fava subito, aveva una bella mira perché era lui che non stava guidando Stavo andando avanti l'aeron e lui mi sparava, aveva pure una buona mira Cioè bra Comunque a quel tizio avevo fatto davvero 110 Cadono madonna Cosa cazzo sboghe? Oh What the E niente Faccio schifo Ari? Chat faccio schifo no Clippatela Faccio schifo ragazzi L'occhio è un po' come l'occhio, uguale proprio Uh, dissing, attenzione No, 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 no Ceci ogni Chissà Me Mi Chissà Tocci Il Chissà понравi Non cos'è successo non lo so per favore me lo dici tu non lo so tu l'hai capito io no no zero io non ho capito veramente come sono cadutari sono io ho fatto le sbaglio a tre che non ho due sembra una bella incazzata si questi si what the fuck oh c'è l'altra c'è un patente che hai visto il mio campo? ti ho dovuto? ti ho dovuto? ti ho dovuto ok tanto non è la kill che mi serve uuuu coittato è messo? notte queen non lo so ragazzi mi serve una kill veramente non lo so non lo so non lo so non lo so andiamo a giocare un torneo cazzo abitano tutti bene danni comunque in teoria se devi clippar qualcosa devi avere il simbolino del chuck è pancato sulle foglie no 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 Sì Ovviamente l'ultimo è sempre bravo Guarda come builda Creative Eh ma questi sono i player che Non è che io non voglio affrontarli, io li fado volentieri Ma buildano troppo Che culo è il mio? Ho il mio bloom oggi Già Questo quanti pazzi ha farmato, Ari Non cattivo per la Iora Guarda, ragazzi, scevi, vi rendete conto? C'è Minchia, ma attaccami C'è, usa le armi Fammi male Non buildare e basta, bro C'è, che cazzo build in continuazione Ma fai da medio santo Questa è la nostra differenza Tra un player in creative E un player che sa giocare Questa è la nostra differenza Ta un player che ci pierde